Get the cool, get the cool to shine, get the cool E allora, bando alle ciance, facciamo parlare le immagini, naturalmente, quelle del primo film in concorso Una magna La vita di Chan da 12 anni cambia drammaticamente quando la sorellina neonata muore all'improvviso La madre, Lilian, ha il cuore spezzato e denuncia i sintomi di una grave malattia Il patrigno alcolista abbandona la famiglia e lascia a Chan da la responsabilità dei fratelli minori Un'amica della madre convince Lilian a lasciare la città Mentre Chan da comincia a fare domande alle quali nessuno risponde se non con il silenzio Allora la bambina decide di lasciare la scuola e parte alla ricerca di sua madre e della verità E' necessario? Comunque con le bugie non si va avanti, perché comunque la verità alla fine viene sempre fuori E' impensabile E' quindi giusto, anzi è indispensabile che comunque ognuno sappia la verità Hanno il diritto di sapere le cose Tanto, tanto è importante Perché tutto l'amore è fondato sulla sincerità e sulla lealtà E' tanto importante E' molto importante Appunto la sincerità è la prima cosa Perché secondo me è un rapporto basale soprattutto sulla fiducia E quindi con ragazzi deve riuscire a fidarsi di te E' importante perché non dicendo la verità ci si può mettere in serio i guai E poi perché se non dici la verità ti tiene un grosso peso sulle spalle Ciao Mucco Pallino Ciao Mucco Pallino Ciao Mucco Pallino